Harry, ti mostro dove si tiene la lezione di volo. Seguimi! Forza, Harry! La lezione di volo è da questa parte. Buon pomeriggio, ragazzi! Buon pomeriggio, madama Boom! Benvenuti alla prima lezione di volo. Allora, cosa aspettate? Mettetevi alla sinistra della vostra scopa. Hai mancato un anello. Ne hai mancati un bel po', Potter. Bene, adesso passiamo all'esame. Sarà assegnata una votazione in base al modo in cui verrà completato il percorso. Ne hai mancati un bel po', Potter. 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 Discreto, ti meriti una D. Se vuoi migliorare la tua votazione nel volo, torna pure a trovarmi quando puoi. Molto bene, Potter. Hai conquistato alcuni punti per la tua casa. Pachok, tocca a te. Signore, signor, 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 signor Pachok. Oh, santo cielo, il polso si è rotto, poverino. Su, coraggio, in piedi. Nessuno si muova mentre io lo accompagno in infermeria. Coraggio, mio caro. Avete visto che faccia? Se avesse stretto questa, si sarebbe ricordato di cadere sulle chiappone. Dammi qua, Malfoy. No, la metterò dove Pachok dovrà cercarsela. Che ne dici del tetto? Cosa c'è, Potter? Pensi di non arrivarci? Dammela, Malfoy. Io ti butto giù da quella scopa. Che cosa stai aspettando, Potter? Che cosa stai aspettando? Che cosa stai aspettando? Non credere che sia finita qui, Potter. Con te sono pronto a battermi in qualsiasi momento da sola. Se vuoi anche stanotte. Un duello tra maghi. Beh, cosa c'è? Non hai mai sentito parlare di duelli tra maghi? Certo che ne ha sentito parlare. Io sono il suo secondo. Ci vediamo a mezzanotte al quarto piano. Soltanto bacchette. Niente contatto fisico. Caro Harry, ti va di venire a prendere un tè con me questo pomeriggio? Voglio sapere tutto del tuo primo giorno. Hagrid. Hagrid dovrebbe essere nella capanna. Coraggio, Harry. Seguimi. Ciao.